Buongiorno, sono Jordi Ponzi e sto per presentarti una rivoluzione nel campo dei rasoi, un prodotto che cambierà per sempre la tua routine di rasatura quotidiana. Resta sintonizzato! Sei stanco di provare rasoi che rendono difficile e poco efficace la rasatura? Vuoi evitare le irritazioni? Ti presentiamo Power Touch Gold Edition, il rasoio elettrico che ti assicura una rasatura facile e veloce e con una definizione perfetta, senza irritazioni, senza arrossamenti, senza peli incarniti e dolore. La sua innovativa tecnologia Wet & Dry ti permette di usarlo a secco o con acqua, in più funziona con o senza schiuma da barba. Power Touch Gold Edition è compatto e leggero, è senza fili, puoi portarlo con te quando vuoi e dove vuoi, in ufficio, in palestra, persino sotto la doccia. Ottieni una rasatura perfetta in pochi secondi. Grazie al suo rivoluzionario sistema a doppia lama in titanio laminato e oro e al suo potente motore, Power Touch Gold Edition solleva e radia anche i peli più corti in una sola passata. La sua testina oscillante si adatta a ogni curva di viso e collo e ti regala una pelle liscia e una rasatura profonda, anche contro pelo. In più, Power Touch Gold è dotato di un rifinitore integrato con cui è possibile, oltre a tagliare la barba, perfezionare il taglio dei baffi, a definire le basette per avere un risultato imbattibile. Con Power Touch Gold definisci alla perfezione la tua barba. Questo dispositivo piccolo e potente che non va oltre il palmo della mia mano è Power Touch Gold. Si tratta dell'ultimo ritrovato nel campo della rasatura. Power Touch Gold fa tutto quello che un rasoio elettrico e delle lame potrebbero fare insieme. Sfoltisce, rade, rifinisce, definisce e regola la tua barba. Insomma, riunisce in sé tutti i sistemi di rasatura esistenti in commercio. Power Touch Gold Edition. Perché si chiama Power Touch Gold Edition? Beh, è molto semplice. Perché si tratta di un rasoio esclusivo, prodotto in edizione limitata, a cui è stata applicata una lamina d'oro 24 carati e la cui efficienza è stata migliorata con la tecnologia Wet and Dry, di cui parleremo a breve. Ma non solo, è dotato di un sistema a doppia lama di precisione, di una testina oscillante, di una copertura antibatterica ed è senza fili. Il funzionamento di Power Touch Gold è molto semplice. Basta premere questo pulsante rosso e il gioco è fatto. Pronti via! A proposito, riuscite a capire come si carica? Non ci sono cavi, non ci sono attacchi e totalmente senza fili. E soprattutto, grazie al suo sistema a doppia lama e alla testina oscillante, bastano un paio di passate per eliminare anche i peli più nascosti e ribelli. A secco, con acqua, con o senza schiuma da barba, anche il contropelo è un gioco da ragazzi. Ma testiamolo qui e confrontiamo un rasoio elettrico di alta gamma con il nostro Power Touch Gold. Il rasoio di alta gamma si adatta molto bene al viso, ma non rasa bene nemmeno in molti passaggi. Ma andiamo a vedere come va Power Touch Gold. Sembra magico! Ha rimosso del tutto i peli in un'unica passata. Ecco il risultato finale. Non c'è paragone. E' fenomenale. Di addio ai fastidi e ottieni una rasatura eccellente con Power Touch Gold. Un rasoio come questo ha un valore minimo sul mercato di 150 euro, ma solo per oggi puoi averlo al fenomenale prezzo che vedi in sovraimpressione. Proprio così, hai sentito bene. Non è fantastico? Non troverai un prodotto di questa qualità a un prezzo così basso. Trasforma la tua rasatura quotidiana in un lusso impareggiabile con Power Touch Gold. Ma aspetta, chiama subito e oltre al sensazionale Power Touch Gold ti invieremo anche due omaggi. Il primo è il fantastico Final Touch Gold. Bello vero? E' anche utile. Il suo design è perfetto per rimuovere dalle naricce o dalle orecchie quei fastidiosi peli che danno un aspetto così disordinato e trascurato. Non sei d'accordo con me? Proviamo ad accenderlo. È velocissimo e ha una superficie davvero liscia, grazie alla quale non dovrai soffrire per rimuovere i peli da queste zone delicate, perché è morbido e non tira a sé il pelo. E poi è piccolo, leggero e ha un elegante design, quindi puoi portarlo sempre con te. È fantastico! Ah, e il secondo regalo lo svelerò più avanti. Lo adorerai! E ora parliamo di una importante funzione di cui è stato dotato il Power Touch Gold, ossia il suo esclusivo sistema wet and dry. Hai presente quando aspetti a raderti perché devi farti la doccia? Molto fastidioso, vero? È come se dovessi scegliere tra la doccia e la rasatura. Ma grazie a Power Touch Gold non dovrai più farlo. Questo grazie al suo rivoluzionario sistema wet and dry, una tecnologia sviluppata in esclusiva per Power Touch Gold, che rende questo dispositivo assolutamente sicuro e resistente all'acqua. E per provartelo mi raderò proprio qui sul set con questo recipiente. Devo solo aggiustarmi un momento la camicia, per non bagnarla, e poi accendo il mio Power Touch Gold. Come vedete l'ho lasciato cadere nel recipiente pieno d'acqua. Continua a funzionare! Se come me sei tra quelle persone a cui piace radersi mentre fanno la doccia, Power Touch Gold è progettato apposta per te. In più, come vedi, continua a funzionare quando lo tiriamo fuori. Non c'è nessun pericolo nella doccia perché non ha fili né attacchi. Puoi davvero risparmiare tempo nella tua routine quotidiana con Power Touch Gold. Ti chiederai come può un dispositivo così piccolo avere così tante funzioni. Resta sintonizzato per scoprirlo. Power Touch Gold Edition è leggero e compatto, non ha fili, è così pratico che puoi utilizzarlo davvero ovunque, in ufficio, in palestra e perfino sotto la doccia. Ottieni una rasatura impeccabile in pochi secondi. Grazie al suo rivoluzionario sistema a doppia lama in titanio laminato in oro e al suo potente motore, Power Touch Gold Edition solleva e rade anche i peli più corti in una sola passata. Grazie alla sua testina oscillante si adatta a ogni curva del viso e ti regala una pelle liscia e una rasatura profonda, anche contropelo. In più è dotato di un rifinitore integrato per perfezionare il taglio dei baffi e definire le basette. Fantastico, vero? Uno dei vantaggi di questo dispositivo è la sua dimensione ridotta. Power Touch Gold entra perfettamente nel taschino di una camicia. Non solo, se li mettiamo a confronto, vediamo che è anche più piccolo di un cellulare. Ma a renderlo super pratico non è solo la dimensione, ha anche un peso contenuto. Accendo la bilancia che abbiamo qui sul set, così ti posso mostrare come Power Touch Gold non supera i 100 grammi, a differenza di un comune rasoio elettrico che, come vediamo, supera i 400 grammi. Possiamo dire che Power Touch Gold è ideale da usare in viaggio e sarà il compagno perfetto della tua routine quotidiana. Avere una barba definita e ben curata è sinonimo di eleganza, di raffinatezza. Ecco perché insieme a Power Touch Gold riceverai anche questo rifinitore di alta precisione che ti consente di definire baffi, basette o tagliare e regolare la tua barba. Come si fa? È molto semplice. Solleviamo il rifinitore. E una volta finito, muoviamo il rifinitore finché non torna nella sua posizione originale. Facile, vero? Con Power Touch Gold. Confrontiamolo con un rasoio manuale con testine di ricambio. Nota come dopo varie passate con questo rasoio molti peli non sono stati rimossi. Ci sono diverse zone ancora da radere. Insomma, è un caos! Invece con Power Touch Gold la rasatura è perfetta, il taglio è uniforme e la barba ben definita. Questo sì che è un lavoro ben fatto! Il rasoio di Power Touch Gold assicura una rasatura senza uguali. Ma non è tutto! Power Touch Gold è un prodotto di lusso. Da cosa lo capiamo? Beh, intanto dalla scatola. Se l'apriamo, troviamo il contenuto appoggiato su un contenitore vellutato. Davvero molto, molto elegante. E poi abbiamo il nostro dispositivo con il suo design sofisticato e particolare. Nero è sinonimo di eleganza, oro di lusso. Adoro questi colori. Nota la qualità nella parte esterna. Sui lati abbiamo due parti in morbida gomma per facilitare l'impugnatura. Power Touch Gold è un dispositivo reso bello ed elegante grazie al suo design a tutto lusso. Ma c'è di più! Chiama ora e includeremo anche questo pennellino per pulire la testina del Power Touch Gold. Ma non solo! Riceverai anche il Final Touch Gold per rimuovere i fastidiosi peli dalle naricce o dalle orecchie. Aspetta, non abbiamo mica finito! Chiama subito e con il Power Touch Gold riceverai anche un kit completo per la toletta personale. Totalmente gratis! All'interno ci sono due tagliaunghie, uno per le mani, uno per i piedi, un calzascarpe molto importante e questa indispensabile spazzola per rimuovere i piedi dalla giacca o dai pantaloni, da usare soprattutto per gli abiti scuri. Impossibile farne meno! Beh, per chi dimentica spesso lo spazzolino da denti, è comodo tenerne uno di riserva nel kit di toletta. E infine, un pettine per essere sempre ordinati, una pinzetta per rimuovere gli ultimi peletti e perché no, una lima per avere unghie e mani perfette. Come vedete, si tratta di un kit straordinario da rasatura per la cura della persona. Chiama ora per avere subito il tuo Power Touch Gold Edition, il rasoio portatile all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Raditi! A secco, con acqua, con o senza schiuma. Chiama subito e ti invieremo il rasoio elettrico, il rasoio per narici e orecchie e il kit toletta, un valore di oltre 300 euro! Al fenomenale prezzo che vedi in sovraimpressione! Che aspetti? Power Touch Gold unisce in sé i migliori rasoio elettrici, rasoio classici con la mette di ricambio e quelli monouso. Ma ora voglio parlarvi dei loro principali svantaggi. Iniziamo da un comune rasoio elettrico. Il suo principale svantaggio? Il prezzo? 160 euro! Ma non solo! È di grandi dimensioni! Pesa! Power Touch Gold non ha fili, questo sì, e soprattutto non lo possiamo usare sotto la doccia, perciò scartiamolo. D'altro canto, il rasoio manuale con testine di ricambio ci obbliga a utilizzare la schiuma da barba. E in più i suoi ricambi sono cari. È anche un po' sinonimo di irritazione, di tagli e brufoletti. Anche questo lo scartiamo. E per ultimo? Cos'è questo? Cos'è questo? Radersi con un rasoio usa e getta è quasi come farlo con un coltello. O no? Irritazioni, efficacia zero. Ed è necessaria la schiuma da barba, quindi via anche questo. Cosa resta? Resta Power Touch Gold. Il segreto di Power Touch Gold sta nel suo sistema avanzato di alta tecnologia e nelle sue lame in titanio tedesco che lavorano simultaneamente insieme per sollevare e radere delicatamente in una sola passata anche i peli più corti, sia che siano sottili o spessi, asciutti o bagnati. La sua testina oscillante resistente all'acqua si adatta a qualsiasi curva del viso e del collo per raggiungere le zone più difficili e catturare la maggior parte dei peli possibile proteggendo insieme la pelle e soprattutto offrendo una rasatura veloce e perfetta in pochi secondi. La maggior parte delle mattine ci svegliamo male, spettinati, con un aspetto orribile. Sappiamo che avere un aspetto curato e ordinato influenza notevolmente il modo in cui gli altri ci vedono. Ecco perché è così importante prendersi cura dei dettagli. Sono abituato a non uscire mai di casa senza essere perfetto. Ho bisogno di sentirmi ordinato e pulito. In forza! I momenti della doccia, della rasatura, del vestiario sono i pilastri della mia routine che è più puro. Quando mi alzo vado subito in doccia. Con Power Touch Gold. Raditi con tranquillità sotto la doccia, in modo più veloce, più facile e ottenendo una rasatura impeccabile. In una sola passata. Guarda che risultato perfetto! Power Touch Gold è studiato per le pelli più sensibili. L'acqua ammorbidisce la pelle e fa scivolare meglio le lame. Grazie alla sua innovativa tecnologia wet and dry. Nessun rasoio è più pratico. Bella, eh? La sensazione della barba appena fatta. Ora, un po' di dopo barba e sono pronto. Una rasatura perfetta. La pelle è liscia e pulita, come piace a me. Ora, non mi resta che vestirmi. Sono pronto per uscire. Sono ben vestito e soprattutto ben rasato. Come appena uscito dal salone di un barbiere. Impeccabile. Molto bene. Prendo il mio Power Touch Gold, lo metto qui in tasca e lo porto al lavoro con me. Avere un rasoio come questo è davvero un lusso. Con Power Touch Gold mi sembra di iniziare la giornata con più forza, con più energia. Power Touch Gold Edition è il compagno ideale della tua routine quotidiana. Un vero lusso. Sfoltisce, rade, rifinisce, definisce e regola la tua barba. Non c'è nulla che Power Touch Gold non possa fare. Le sue lame in titanio e il suo motore potente permettono di eliminare anche i peli più ribelli. Senza dolore, senza tagli o irritazioni. Power Touch Gold è una tecnologia rivoluzionaria che sta nel palmo della tua mano. È un'edizione limitata dal valore di oltre 300 euro, che solo per oggi può essere tua all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Proprio così, cosa stai aspettando? Non è un'offerta straordinaria? Chiama ora per avere il tuo Power Touch Gold a questo prezzo straordinario. Ma non è finita qui. Chiama subito e ti invieremo anche Final Touch Gold, il mini rasoio del valore di oltre 30 euro, per eliminare i fastidiosi peli delle naricce e delle orecchie. Ma aspetta, riceverei in omaggio un kit completo di toletta con tutto il necessario per avere un'immagine perfetta in qualsiasi momento. È un'offerta davvero imperdibile. Il rasoio elettrico, il rasoio per narici e orecchie e il kit personale da toletta, tutto a questo prezzo fenomenale. Cosa stai aspettando? Approfittane subito. Trasforma subito la tua routine quotidiana in un lusso con Power Touch Gold. Sei stanco di provare rasoi che rendono difficile e poco efficace la rasatura? Vuoi evitare le irritazioni? Ti presentiamo Power Touch Gold Edition, il rasoio elettrico che ti assicura una rasatura facile e veloce e con una definizione perfetta. Senza irritazioni, senza arrossamenti, senza peli incarniti e dolore. La sua innovativa tecnologia wet and dry ti permette di usarlo a secco o con acqua. In più funziona con o senza schiuma da barba. La maggior parte dei rasoi in commercio è molto costosa e non dà i risultati promessi. Con Power Touch Gold Edition invece avrai una rasatura veramente impeccabile, con il massimo comfort e senza dolore. Chiama ora per avere il tuo Power Touch Gold all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Non perdere questa opportunità. Ma non abbiamo finito! Ordina subito Power Touch Gold e ti regaliamo il mini rasoio Final Touch Gold del valore di oltre 30 euro. Per dire addio a quei fastidiosi peli che danno un aspetto così disordinato e trascurato al tuo viso. E tutto questo senza dolore, facile e veloce. Grazie a Power Touch Gold. Raditi e ottieni il massimo con Power Touch Gold. Chiama per avere al prezzo fenomenale che vedi in sovraimpressione il tuo Power Touch Gold Edition. Il rasoio elettrico portatile che rade e regola la tua barba in pochi secondi senza dolore, a secco o con acqua, con o senza schiuma, come preferisci. Ma aspetta, c'è di più! Chiama subito e in omaggio riceverai il rasoio per rifiniture per narici e orecchie e il kit personale di toilette completo di due tagliaunghie, uno grande e uno di precisione, un calzascarpe, una spazzola per la rimozione dei peli dai vestiti, uno spazzolino da denti, un pettine, una pinzetta e una lima per unghie. Per essere sempre impeccabile è perfetto ovunque. Cosa stai aspettando? È un'offerta imperdibile! Un valore di oltre 300 euro! Al prezzo fenomenale che vedi in sovraimpressione! Non perdere altro tempo!